L'emicrania è un difetto di tipo familiare, quindi naturalmente dalle interviste che seguiranno vedremo come i pazienti devono convivere con questo mal di testa perché fa parte di loro e quindi adopereranno delle manovre di evitamento di alcune cose che potrebbero generare gli attacchi e imparano a riconoscere non solo le modalità con le quali si presentano ma naturalmente anche a evitare le condizioni che li possono generare. A volte mi impedisce di svolgere delle attività normali come studiare o anche uscire, preferisco non uscire con gli amici perché non sarei di compagnia. È difficile, quando parte è proprio difficile, fare qualsiasi attività quotidiana da lavorare, studiare, andare in giro, camminare, qualsiasi cosa. Insomma, per forza di cose devo convivere, comunque sono difficile tante volte perché proprio non riesco a fare niente, devo piantare lì tutto e mettermi lì magari seduta sul divano con gli occhi chiusi fin quando mi passa. Ci devo convivere per forza, perché per forza di cose, però in quel momento non riesco a fare poco. Sforzandomi sì, sforzandomi facendo finta di non averlo sì. L'emicrania è una forma di cefalea primaria, essenziale, familiare. Quindi naturalmente chi soffre di questo mal di testa deve imparare a convivere col mal di testa stesso. Naturalmente il paziente impara ad evitare quelle che sono le situazioni che aumentano il numero degli attacchi e utilizzare i farmaci migliori per ridurre il mal di testa. E naturalmente anche una terapia, quando è il caso di prevenzione o farmacologica o come atteggiamento nei confronti di alcune situazioni della vita, che lo inducano a ridurre il mal di testa. Quindi deve comunque il paziente che soffre di questo tipo di disturbo imparare a convivere con il mal di testa, ma come dicevo, noi siamo qui per dare una mano sia per quello che riguarda la riduzione del numero di ore di dolore sia per quello che riguarda i numeri di giorni di dolore che colpiscono questo tipo di paziente.